Altre 40 positività al covid nel bellunese. L'ultimo aggiornamento serale dell'Ulstolomiti ne assegna 17 ai focolai di Comelico Cadore Ampezzano e altri 7 a operatori e ospiti di case di riposo. Le altre 16 sono sparse sul territorio e al momento non sono state individuate specifiche aggregazioni che possano far pensare a nuovi focolai. L'aumento di positivi ha appesantito il lavoro di tracciamento e rallentato la presa in carico delle nuove positività. Per semplificare la trasmissione delle informazioni rilevanti a chi si trova in quarantena il dipartimento di prevenzione dell'Ulstolomiti ha predisposto un pro memoria con le indicazioni sui comportamenti sulle misure da assumere durante l'isolamento che oltre a essere inviato ai singoli positivi è stato pubblicato anche sul sito dell'azienda sanitaria. Si lavora anche per velocizzare la risposta alle numerose richieste di tampone pervenute da medici di famiglia. Alcuni di loro effettueranno anche i test antigenici rapidi. Per quanto riguarda i ricoveri tre pazienti sono in terapia intensiva e 25 in subintensiva a Belluno, 16 in subintensiva a Feltre, 8 in area bassa intensità a Belluno e 6 in ospedale di comunità ad Alano. Infine il drive-in di Caprile si sposta ad Agordo nel piazzale a Tamonic. Accesso libero per bambini e ragazzi adulti sintomatici del mondo della scuola e rientri dall'estero il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19.